L'istinto mentale davanti a quanto abbiamo ascoltato, cercherò di fare l'uno e l'altro, ma innanzitutto vorrei esprimere la mia grande soddisfazione perché ci sono delle associazioni e qui ne abbiamo una testimonianza, che si dedicano a sensibilizzare sul grande valore della vita. E la vita, lo dico senza polemica e senza voler essere populista, la vita, cari amici, non è mai e non può mai essere sottoposta a dei bilanci. La vita è un bene talmente prezioso che non ha valore e quindi non si può pensare che per dei budget che devono essere destinati e la vita va in un pericolo perché manca un defibrillatore in una università, in una scuola, in un liceo, in un campo sportivo. Lo Stato deve essere anche capace di fare delle scelte. Allora se un defibrillatore costa circa 1000 euro vorrei capire quanto costa invece un carro armato o quanto costa un aereo che deve sganciare qualche bomba. Allora se abbiamo possibilità di fare qualche carro armato in meno, senza naturalmente mettere a rischio tutta l'industria e tutte le persone che lavorano, ma qualche carro armato in meno e qualche defibrillatore in più, io credo che il cittadino sarebbe un po' più sicuro. Ma lo dico questo con convinzione perché quando in una famiglia o quando uno deve gestire, allora è inevitabile che se c'è un tot, questo tot che deve essere gestito ci sono delle priorità. Io ritengo che una priorità deve essere quella della vita, ma la vita sempre e la vita dovunque. Qui mi inserisco nel tema che devo dire è troppo generale per un teologo, quello del senso religioso. Io non parlerò tanto del senso religioso. Qui ci sono, vedete, due espressioni che vanno alquanto specificate. È vero che in ognuno di noi c'è un senso religioso, in ognuno, anche in chi non crede in Dio c'è quel senso religioso perché l'uomo è aperto, poi lo chiamerà Dio, lo chiamerà in tanti altri modi, ma l'uomo è aperto al trascendente. Tanto è vero che anche nel nostro linguaggio noi immettiamo questa dimensione. Vedete, se uno che non crede in Dio e dovesse essere conseguenziale non dovrebbe neanche utilizzare l'espressione verbale rianimazione e dovendo essere conseguenziale però non comunicherebbe più. Noi abbiamo immesso nel linguaggio quello che è una delle componenti concettuali della nostra esistenza, rianimazione significa che noi consideriamo che c'è una presenza di un'anima. E che cos'è l'anima? L'anima è quella che va al di là del semplice bios. Vedete, i greci che ci hanno consegnato un patrimonio di cultura, i greci avevano due espressioni per indicare la vita. avevano bios, che viene coniugato anche, che viene declinato anche al plurale, ma avevano invece anche zoe, e zoe si dice solo ed esclusivamente al singolare. Questo, vedete, deve farci riflettere. I greci non erano cattolici, evidentemente, ma i greci avevano la capacità di, dove era, abbiamo visto anche dai vari miti che abbiamo ascoltato, la capacità di dare uno sforzo molto forte alla razio, alla ragione, perché nella sua capacità di speculare, di arrivare a concepire la realtà come è composta, poi la mettevano anche nel linguaggio. Ci sono le vite, l'uomo è bios, io sono questa realtà che è carne, che è cellule, che sono nervi, che sono muscoli, che sono tutta questa realtà. Ma in me c'è anche il principio della zoe, e se io l'ho immesso nel linguaggio, devo essere conseguenziale. In me c'è un principio di vita. Gli ebrei lo chiamavano Nefesh, e questo è uno dei motivi per cui, quando là le due dita del creatore e di Adamo, sembrano quasi attaccarsi, che hanno un significato teologico profondo. Perché vedete, quando si va a vedere nella Cappella Sistina, lo riprodiamo lì, quel digitus paterne dextere, è quello che noi cantiamo, il digitus paterne dextere. Quello, perché evidentemente la grandezza dell'artista non poteva pensare di rappresentare lo Spirito Santo come una colomba, come noi volgari imitatori facciamo. Lo Spirito Santo mettiamo sempre una colomba, no? Eh ma, mi credo, è un artista. Come mettiamo a fare una colomba? Ma il genio dell'artista, il digitus cantava, digitus paterne dextere, e quello è il digitus paterne dextere, quello è lo Spirito Santo. Lì c'è il principio della vita che viene dato, lì c'è la zoe, lì c'è il Nefesh. Lo possiamo dire in tutte le lingue, ma il principio rimane lo stesso. Noi non siamo soltanto ciò che mangiamo, come amava dire Feuerbach, Marx e via dicendo. Noi non siamo soltanto quello che mangiamo. In noi c'è un principio in più. E c'è quel principio che dà vita e che può essere coniugato soltanto al singolare. Come questo avviene, come questo si abbia a realizzare? Questo, vedete, io non lo voglio dire alla fine, alla fine di tutto il percorso del che la scienza fa, deve fare ed è obbligata a fare. Io lo dico dall'inizio, proprio perché sono teologo. Noi siamo un enigma a noi stessi, noi siamo un mistero a noi stessi. Chi è questo uomo? Chi sono io? Il grande problema che noi viviamo alla fine è questo. È il dover riflettere sulla nostra identità. Il chi sono io? La domanda è il chi sono io? E questo chi sono io? Dove sto andando? Se c'è una vita dopo questa vita? Questi sono interrogativi che non possono mai essere tolti da un'esistenza, soprattutto quando questa esistenza chiede il senso delle cose. Chiede il senso della propria vita o chiede il senso di ciò che avviene intorno a sé. E intorno a noi sperimentiamo anche il lutto, sperimentiamo il dolore, sperimentiamo anche la morte. Anche quando meno ce lo aspettiamo, così come sperimentiamo anche la capacità che c'è un intervento, che c'è un qualche cosa inaspettato che la scienza non può spiegare. Perché sono combattuto? Perché sto studiando in questi giorni, lo devo presentare martedì, chi vi parla è anche membro, cioè appartiene a una congregazione che è quella delle cause dei Santi. Dovò presentare martedì prossimo, tutto un malloppo di migliaia di pagine, sempre così, con tutta la documentazione possibile, devo presentare agli altri cardinali e vescovi che poi decideranno, si vota, e dopo il voto va al Papa, si vota, ad esempio, se quello che ci viene sottoposto è un miracolo oppure no. Per cui abbiamo la commissione medica che arriva a dire, questo è inspiegabile dal punto di vista scientifico. Non vi parlerò di quello che vado a esporre martedì, ma vi parlerò di una persona che è conosciuta da tutti quanti voi, madre Teresa di Calcutta. Allora, è pensabile, siccome l'ho presentato io quel miracolo, allora è pensabile con tutta la documentazione che una ragazza, perché era circa sulla trentina di anni, che una ragazza che viene detto dai medici, allora suore andate lì a pregare perché domani non la trovate più, dopo un paio di anni di peripezie con un tumore grossissimo alle ovaie, tutta gonfia, che ormai stava per... cioè, moriva, moriva. Le due suorine vanno là, neanche cattolica, quindi c'è neanche problema di dire che bilantavano, si può bilantare un tumore, insomma, in altre parole. Allora vanno là, prendono un pezzettino del vestito di madre Teresa, gliela mettono sul ventre, dicono una preghiera, la baciano, si salutano perché sanno che tanto ormai la vita è finita e il giorno dopo non c'è più, questa durante la notte vede una grande luce, scopre, si dia via le coperte, va, vuole mangiare, vuole fare tutto, i medici vanno, il tumore scompare, non c'è più il tumore, non c'è più. Ma era lì dove è andato a finire? E non lo so, non c'è più, non c'è più. E non ho avuto, perché, amici miei, perché c'è anche qualche d'uno che prega intorno a noi. Io non lo so se mamma, papà o qualche d'uno pregava, ma certamente qualche d'uno ha anche pregato. Io non so se il tuo è un miracolo o meno, non mi voglio neanche esprimere su questi temi, ma certamente qualche d'uno ha pregato. C'è un principio nella nostra esistenza che va al di là di quello che noi possiamo toccare. Vedete la luce, tante cose. Qui sono anche qui dibattuto tra l'essere uomo di scienza, perché anche se io porto un colletto, io sono un uomo di scienza, difendo l'essere uomo di scienza, perché con tutta buona pace di quanti sono scienziati, la scienza non è soltanto quella matematica, la scienza non è soltanto quella fisica, la scienza ha una denominazione un pochettino più ampia. Qui sono combattuto tra l'essere uomo di scienza, ed essere un uomo che ha anche una fede, anche se piccolo e anche se povero. E qual è l'essere dibattuto? Vedete, del nostro cervello, della funzionalità, delle funzioni del nostro cervello, qui i medici mi potranno correggere, noi alla fine conosciamo soltanto l'80% di tutto quello che è il mistero e l'enigmaticità del nostro cervello, di come reagisce il cervello stesso, di tutta la conoscenza che noi possiamo avere del cervello. Se voi pensate che Collins, Francis Collins, che è una dell'equipe dello scopritore del DNA, quando dovuto esprimere il proprio DNA, poi ha scritto anche un bellissimo libro, alla fine, in tutto questo dice, we are the end of the beginning, noi siamo soltanto alla fine dell'inizio, noi anche con la scienza siamo soltanto alla fine di un inizio continuo, abbiamo scoperto il DNA da circa dieci anni e ancora non sappiamo assolutamente niente di tutto questo, sì abbiamo scoperto l'Eli, abbiamo scoperto tutto quanto, però che cosa c'è ancora? Ma è tutto da scoprire, davanti a noi, è ancora tutto da scoprire, come conseguenze, è ancora tutto da scoprire, perché noi siamo un enigma a noi stessi, anche la macchina più perfetta, anche tutto quello che cercherà di imprimere dentro il nostro corpo qualche cosa, alla fine ci sarà qualche cosa che sfugge sempre, come sfugge al nostro stesso linguaggio il dover raccontare l'esperienza che abbiamo avuto. Qui aveva ragione Wittestein, vedete, Wittestein è stato un grande perché da filosofo ha studiato un pochettino il linguaggio, dice noi viviamo all'interno di una gabbia, la gabbia del linguaggio, ma perché quando io dico ti amo, io dico tutto quello che sento dentro di me, no, sento molto ma molto molto di più, però dico soltanto ti amo, poi dopo ho tantissime altre cose che non posso esprimerti, allora ricordo dei segni, ricordo qualche cosa, ti porto la rosa il primo mese di fidanzamento, ti porto tante cose, ricordo tantissime cose che quell'esperienza che è stata vissuta, come posso raccontarla? Non ho le parole, non ho le parole, vivo all'interno di una gabbia che mi impedisce di esprimere tutto ciò che ho sperimentato, e allora ricordo alla luce, ricordo a tante espressioni che indicano, indicano qualche cosa, non vorrei tediarmi ancora di più e non ve lo voglio neanche dire perché è un'esperienza anche molto personale, ma certamente un'altra di queste, io ho avuto una peritonite, ma senza neanche sapevo, perché cosa sapevo che aveva una peritonite, non sapevo, io ho un po' di dolori, poi lo devono dire loro se ha una peritonite, ma se uno non sa che ha una peritonite muore, perché di peritonite si muore, e una morte più imbecile di quella uno non la poteva fare, perché? Diciamo come se, perché i medici poi io lì, un caro amico che conosco da, siamo cresciuti insieme, dice, eh ti abbiamo salvato per i capelli, questo è il segno che non ne ho più, ha detto, ti abbiamo salvato per i capelli, mi chiede, perché stavi per morire? Io come stavo per morire? Mi chiedevo niente, perché io pensavo, cioè io continuo ancora a pensare, che con tutti i santi e i beati che io faccio fare, no? Io ritengo, ritengo che quando sto per morire, ma io penso davvero, io penso che, cioè io penso questo, che nel momento in cui sto per morire, tutti questi mi vengono incontro, e mi vengono incontro per dire grazie, perché vieni con me, eccetera, eccetera, adesso ve la racconto così, ma insomma, invece io non ho visto nessun santo, nessun beato, e questi mi venivano a dire che stavo per morire, non era vero, non era vero, chiaramente io dovevo vivere, spero ancora per un po' di tempo, per dare fastidio a parecchie altre persone, ma la conclusione mia è questa, vedete, noi abbiamo un grande compito, soprattutto noi che abbiamo diverse responsabilità, ed è il compito che tante volte dobbiamo essere capaci di lungimiranza, noi non possiamo sempre attendere che ci sia una morte per dover prendere coscienza o consapevolezza di qualche cosa, siamo stanchi di tutto questo, lo dico in riferimento a una piccola macchina che deve, deve, non può, non è per fortuna, la vita non è attaccata alla fortuna, la vita deve essere attaccata a un principio di forte responsabilità che a partire da quanti hanno la responsabilità della cosa pubblica ad andare in giù, fino a ognuno di noi, perché anche ognuno di noi, a partire da me, dovrebbe essere capace, perché questo è il primo aiuto, è il primo soccorso che viene dato, un defibrillatore fa parte del del primo soccorso che viene troppo pubblico ad andare in giù, fino a codi udali, ma questo è il primo soccorso che viene thing che viene volto da!